Musica Ben ritrovati amici di Padre Pio TV in questa puntata di Spazio Salute parleremo della sclerosi multipla e per questo sono con noi ospiti in studio la dottoressa Paola Crociani medico dell'unità operativa complessa di neurologia di cassa sollievo della sofferenza e accanto a lei la dottoressa Anna Maria Principe che è psicologa del servizio di psicologia clinica che dipende anche questo dalla neurologia di cassa sollievo della sofferenza perché vedremo anche le implicanze psicologiche della scoperta di questa patologia ma intanto cerchiamo di capire che cos'è come possiamo definire la sclerosi multipla e quindi alla dottoressa Crociani chiediamo appunto di spiegarci che cos'è questa malattia Buon pomeriggio e grazie dell'invito prima di tutto la sclerosi multipla è una malattia cronica che comunque ha una doppia componente una componente infiammatoria che mira contro diciamo la mielina che sarebbe paragonabile alla guaina che circonda il filo elettrico di rame e una componente degenerativa che invece è il vero filo elettrico che ha una evoluzione diciamo levemente progressiva e non ancora ben gestibile e l'attacco del sistema immunitario contro questa mielina che quindi don del nome demielinizzante in realtà si presenta e lo possiamo vedere nella diapositiva presentata alla risonanza magnetica con delle placche quindi il sinonimo di sclerosi multipla può infatti essere anche definita sclerosi a placche la caratteristica di questa malattia è di avere una distribuzione spaziale quindi interessa più zone del nostro sistema nervoso centrale che è formato da cervello, tronco, cervelletto, midollo eccetera eccetera e da un comportamento recidivante almeno all'inizio e voglio dire la differenza di un'encefalite pure e semplice che è caratterizzata come un fuoco in questo caso la dobbiamo pensare come una brace cioè come un qualche cosa che cronicamente sotto sotto può sembrare spento ma in realtà può riaccendersi e di fatti l'andamento nella seconda diapositiva dovremmo vedere inizialmente più frequentemente è recidivante, remittente ecco appunto ed in fase successiva la prevalenza della componente degenerativa può far evolvere in una forma secondariamente invece progressiva abbiamo capito che questa patologia attacca questo che lei ha definito con una metafora filoelettrico che in realtà è una parte della cellula nervosa quindi quello che è simile al filoelettrico è un prolungamento della cellula nervosa del neurone che in realtà svolge la stessa funzione del filoelettrico cioè porta degli impulsi elettrici alla periferia facendo in modo che ci siano delle risposte in andata e in ritorno corretto? esattamente ora quando c'è questa degenerazione dell'involucro cioè della parte diciamo che nel filoelettrico è di gomma e di plastica isolante ecco della parte isolante cioè della mielina o della parte del filamento di tessuto nervoso che succede praticamente? certo, allora è chiaro che la mielina svolge un ruolo fondamentalmente di facilitatore nella conduzione e quindi noi abbiamo un rallentamento della conduzione di questa volè diciamo e quindi di questo di questa funzione vuoi sensitiva se è nella via sensitiva vuoi motoria se è nella via motoria vuoi visiva se è sul nervo ottico e così via questo comporta essendo il nostro sistema nervoso formulato a mappa praticamente il venir meno della funzione là dove c'è la demonizzazione cioè là dove c'è la placca noi abbiamo il deficit di conduzione di quella determinata diciamo impulso nervoso e quindi la carenza della sua funzione quindi è un sistema che cioè una malattia che attacca in maniera zonale il nostro sistema nervoso? allora può attaccare più zone contemporaneamente o anche una in precedenza e l'altra successivamente o anche una sola all'inizio ma lo vedremo siccome nel criterio della diagnosi c'è questo criterio sia spaziale che temporale la presenza insieme all'anamnesi ed altri esami insomma del coinvolgimento di più settori quindi il cervelletto il nervo ottico il midollo l'encefalo eccetera ci dà la possibilità di capire che abbiamo un interessamento multiplo in più sistemi ok? più o meno contemporaneamente e l'altro criterio importante è il criterio temporale cioè quello di sapere che c'è stato un passato ed un presente possiamo dire che questa malattia è come una macchina parcheggiata in discesa insomma voglio dire quindi dobbiamo comunque sulla parte infiammatoria abbiamo molta possibilità terapeutica sulla parte diciamo degenerativa dobbiamo tirare un po' il feno a mano un po' di più ora cerchiamo di capire quanto è diffusa questa patologia e poi soprattutto chi colpisce e se ci sono delle età in cui preferenzialmente si riscontrano gli esordi della malattia sì certo la malattia non è assolutamente definibile rara perché noi abbiamo a livello mondiale circa 2 milioni e mezzo 3 milioni di persone a livello europeo circa 600 mila pazienti e 118 mila solamente in Italia la cosa interessante è che questa malattia non ha una distribuzione omogenea nel globo ma ha una diciamo prevalenza nelle zone lontane dall'equatore quindi nelle zone del can canadesi nord Europa nord America mentre molto meno frequente nelle zone equatoriali e qui poi si dovrà valutare e si vede se questo chiaramente può dipendere anche da un'interferenza diciamo ambientale come per esempio la concentrazione della vitamina D e quindi la possibilità della presenza di raggi solari diretti o meno l'esordio normalmente classicamente viene definita una malattia purtroppo giovanile con tutto quello che comporta e mediamente fra i 20 e i 40 anni sta di fatto che sono molto frequenti anche casi sia pediatrici che ultimamente anche un'evidenza notevole di forme di tipo un po' più dell'adulto quindi anche fino agli oltre 50 anni inoltre una cosa interessante è che la presenza di questa malattia colpisce due volte le donne numericamente in confronto ai maschi quindi c'è un raddoppio proprio della presenza di coinvolgimento femminile Prima parlava di partendo dal riferimento alla distribuzione geografica della malattia di possibile interessamento della vitamina D quale fattore protettivo nei confronti di coloro che potrebbero avere la sclerosi multipla questo mi fa capire che ancora non si ha una certezza delle cause di questa malattia si può parlare più di fattori scatenanti fattori di rischio allora diciamo che la malattia è definita una malattia multifattoriale che vuol dire vuol dire che su una base genetica si interferisce anche un aspetto diciamo ambientale il concetto di genetico per essere precisa non è una malattia genetica cioè trasmissibile di cui conosciamo il gene che quindi l'alterazione di quel gene è causa della malattia e quindi possiamo fare addirittura una diagnosi precoce assolutamente no c'è un movimento su tutta la problematica genetica molto recente ma sicuramente l'interferenza con la vitamina D e il fumo stanno dimostrando che comunque c'è un nesso con vari fattori genetici che possono poi interagire con l'attività infiammatoria la causa vera e propria della malattia non si conosce si ipotizza un Epstein-Barr un'infezione quindi del virus Epstein-Barr ma non si è ancora sicuri in senso che ci sono vari punti di vista ma sta di fatto che questa infezione in un primo momento innesca un meccanismo etoimmune voglio semplificare il discorso spiegandolo in questo senso come se il primo mister X appunto che viene a contatto con il soggetto attiva il nostro sistema immunitario che è come un esercito di difesa questo esercito di difesa viene addestrato a combattere questo nemico che è caratterizzato da un abbigliamento di tuta blu e berretto blu dopodiché ha la memoria di questo tipo di impegno ma ha un errore cioè confonde e prende la mielina la riconosce perché ha la tuta blu pur avendo il berretto rosso però è convinto che deve essere un nemico e quindi attacca per errore anche la mielina del proprio soggetto perché questo sistema di esercito di difesa ha preso alla lettera ma fino a un certo punto confondendo il nemico e ha memoria di questa cosa abbiamo parlato quindi di un ruolo che potrebbero avere tutto ancora in evoluzione anche lo studio la componente genetica e allora ascoltiamo il contributo del dottor Maurizio Angelo Leone che è il primario dell'unità operativa complessa di neurologia di casa sollieva della sofferenza che ci parlerà proprio di questo aspetto Progemus è uno studio che mira proprio a scoprire quali sono i fattori genetici e ambientali che influenzano l'andamento della malattia Progemus sta per Prognostic Genetic Factor in Multiple Sclerosis ed è un consorzio di 20 centri in tutta Italia nord, centro e sud che è coordinato da noi in casa sollievo della sofferenza e dall'Università del Piemonte Orientale per la parte genetica a Novara noi abbiamo un progetto ambizioso vogliamo raccogliere 4.000 pazienti in cui andremo a prendere dati genetici con prelievi di sangue e informazioni ambientali oltre che informazioni sul decorso della malattia ne abbiamo già raccolti 2.000 questi hanno portato a dei risultati importanti perché abbiamo partecipato ad alcuni studi genetici tra cui uno ultimo di poche settimane fa che ha mostrato la presenza di 4 geni come fattore di rischio per la malattia ne dovremmo raccogliere altri 2.000 e sicuramente ce la faremo questo è un tipo di ricerca la ricerca moderna richiede questi grandi numeri quindi oltre alla conoscenza scientifiche e alle capacità scientifiche richiede delle grandi capacità organizzative perché raccogliere 4.000 pazienti è uno sforzo importante sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista delle risorse umane del personale necessario però noi a Casa Sollievo credo che abbiamo tutte le competenze necessarie per raggiungere il nostro scopo e sono sicuro che ce la faremo ecco dottoressa Crociani archiviata la parte delle cause parliamo dei sintomi quali sono i primi sintomi ma dunque i sintomi come accenavo prima funzionando uno sistema a mappa è il sintomo deficitario di laddove c'è questa placca una però dei sintomi più frequenti quasi l'esordio in genere è la neurite ottica retrobulbare che è dovuta ad una placca ubicata nel nervo ottico quindi nella parte posteriore del globo oculare fino al cervello e da un disturbo della vista tipo un appannamento visivo del paziente poi il resto è in funzione ripeto di dove si può trovare la lesione cervelletto è l'organo dell'equilibrio disturbo dell'equilibrio midollo quindi avremo un disturbo della motricità o della sensibilità delle gambe ampedule gambe oppure anche un problema di ordine sfinterico e così in base un pochettino diciamo alla distribuzione delle lesioni a Spazio Salute stiamo parlando di sclerosi multipla e alla dottoressa Paolo Crociani che è neurologa in servizio presso a casa sollievo della sofferenza chiediamo di aiutarci a capire come si pone una diagnosi di questa malattia dunque la diagnosi della sclerosi multipla è una diagnosi a puzzle quindi in realtà servono molti dati prima di tutto l'esclusione di quella che noi in termini tecnico diciamo no better explanation cioè l'esclusione di tutte altre malattie che potrebbero mimare la sclerosi multipla e che quindi vanno escluse parlo di problematiche vascolari metaboliche eccetera vasculitiche e così via poi un dati anamnestici importanti perché potrebbero farci risalire a un dato pregresso e quindi avere questo criterio che a noi serve di capire della braccia accesa e spenta l'esame obiettivo neurologico e là gli esami funzionali altri esami di laboratorio nostro fra cui un principe e anche il licor cioè la puntura lombare che ci evidenzia l'attività di un sistema immunitario intra all'interno del sistema nervoso centrale e la risonanza magnetica che comunque è principe per quanto riguarda l'immagine neuroradiologica non ultime in un secondo i potenziali evocati che sono quegli strumenti con cui noi valutiamo non fotograficamente la lesione ma funzionalmente cioè vediamo il famoso rallentamento del porto della via nervosa dovuta alla placca presente nella sede una volta che la diagnosi è stata accertata che si fa? Allora una volta che la diagnosi è stata accertata chiaramente c'è un grosso problema e poi cederò la parola alla dottoressa per l'aspetto psicologico e la diciamo di gestione della diagnosi che non è poco per il paziente e per il caregiver ma fondamentalmente si approccia al paziente con la prospettiva delle terapie terapie che possono essere di prima secondo terza linea secondo un po' la problematica e la gravità diciamo almeno statisticamente la dimostrazione e la presentazione della malattia il coinvolgimento dei settori eccetera prima seconda e terza linea cosa significa? Significa un freno a mano nella famosa macchina parcheggiata in discesa sempre più potente per contro partire già con una terapia estremamente potente non sempre diciamo all'inizio può essere una cosa forse corretta perché quello che dico sempre al paziente è che se noi abbiamo un animale sul muro ed è una mosca basta prendere uno scacciamosche per risolvere il problema e avere il muro sano se noi affrontiamo il primo animale che vediamo con un cannone dobbiamo poi ricostruire il muro quindi tenere sotto osservazione partire con la terapia quanto prima possibile ma una terapia che ci permetta di controllare il paziente e poi se non risponde perché la discesa ha una pendenza maggiore a quel punto passare a terapia sicuramente di potenza maggiore e questa è terapia farmacologica giusto terapia farmacologica questo è il presente della terapia ma c'è anche un futuro possibile su questo si sta lavorando anche a casa sollievo della sofferenza da chi più scientifica coordinata dal professor Angelo Vescovi che è il direttore scientifico appunto di casa sollievo della sofferenza che ci aggiornerà proprio su quello che potrà avvenire e che oggi è solo una sperimentazione si tratta di utilizzare le cellule che noi coltiviamo nella banca delle cellule staminali e sono delle cellule staminali di cervello umano queste vengono moltiplicate in laboratorio e poi vengono inserite all'interno del cervello della persona che nel caso specifico è affetta da sclerosi multipla secondaria progressiva c'è una forma di sclerosi multipla che non è curabile in alcun modo comunque risponde molto poco ai farmaci l'inserimento avviene con un sottilissimo catetere che viene messo nelle cavità del cervello si chiamano ventricoli cerebrali e lì dovrebbe sviluppare un'attività fortemente antinfiammatoria e rigenerativa di per sé la procedura è estremamente semplice richiede un 2-3 ore di sala operatoria compreso l'anestesia abbiamo già trapiantato 7 pazienti anzi 8 recentemente nessuna complicazione di nessun genere non posso assolutamente sbilanciarmi su qualunque possibile effetto terapeutico perché in primis non è questo lo scopo dello studio che è quello di dimostrare che il trapianto è sicuro così come lo sono le cellule in questo momento siamo molto soddisfatti credo che rapidamente finiremo il terzo gruppo forse una cosa importante da spiegare a chi ci guarda è che le cellule che questi pazienti affetti da sclerosi multipla ricevono in questo periodo sono esattamente le stesse cellule che hanno ricevuto i pazienti con la sclerosi laterale amiotrofica 5 trapiantati a partire da 5 anni fa cosa vuol dire questo che con un singolo donatore massimo 2 donatori noi continuiamo a fare i trapianti in diverse patologie neurodegenerative queste cellule sono già state nell'uomo per 5 anni è il massimo grado di sicurezza che ad oggi è disponibile sul globo terracqueo l'iniziativa è made in Italy anzi made in San Giovanni Rotondo completamente perché San Giovanni è lo sponsor io sono responsabile scientifico del trial e noi siamo i proprietari delle cellule è una sperimentazione che in questo momento è in realtà internazionale perché coinvolge anche la Svizzera tutta la parte di radiologia viene fatta dalla Svizzera si tratta di cellule assolutamente scevre da qualunque problematica etica perché derivano da feti che sono morti per aborto assolutamente spontaneo un caso di decesso naturale è proprio in tutto e per tutto una donazione di un piccolo frammento di tessuto di una persona che era ancora allo stadio fetale ma come voi sapete io ritengo assolutamente che sia una persona che è morta per caso naturale e ha fatto una piccola donazione di un frammento del suo corpo questa piccola donazione permette di trapiantare centinaia di migliaia o in teoria anche milioni di pazienti anche se non la spingeremo così là è assolutamente unica nel suo genere come sempre dico quando inizio la sperimentazione di fase 1 sono assolutamente contento se la sperimentazione mi indica la dose massima di cellule che posso dare ai miei pazienti ma soprattutto che indica che c'è assoluta sicurezza per pazienti dopodiché si spera sempre di ottenere qualche risultato sull'efficacia neurologica i progetti sono grossi sono molto grossi perché è appena stata depositata la domanda per avviare la sperimentazione di fase 2 sulla sclerosi laterale amiotrofica molto molto più complessa stiamo completando la sperimentazione sui tumori cerebrali con ottimi risultati e previsto per la fine del 2019 2020 pensiamo di partire con la sperimentazione sulle lesioni spinali croniche è la cosa più complicata che c'è 2019 2020 in realtà dipende dai fondi disponibili nessuno mi ha detto che potevo ma lo chiedo donate e aiutateci perché abbiamo bisogno e buon Natale bene ovviamente non c'è un'implicanza soltanto di carattere terapeutico dopo la scoperta di questa malattia e non è facile per taluni pazienti alcuni dei quali sono molto giovani accettare di avere una malattia progressiva come abbiamo detto e allora entra in campo accanto al neurologo che cerca di tenere il più possibile questo freno a mano inserito cioè cercare di rallentare la progressione della malattia entra in campo anche il supporto psicologico e allora alla dottoressa Anna Maria Principe che è psicologa in servizio presso Casa Sollievo proprio presso la neurologia e che quindi è proprio il compito di interagire con questi pazienti ecco che cosa succede nel momento in cui un paziente scopre di avere la sclerosi multipla sì ricevere una diagnosi di sclerosi multipla ti cambia la vita e quindi il paziente è costretto a vivere ogni giorno con questa patologia quindi deve accettare questa convivenza questo matrimonio non voluto e quindi il paziente quando sa di avere la diagnosi prova una profonda crisi psicologica a cui si accompagnano sentimenti di impotenza di incredulità di paura di rabbia ma anche di negazione perché vengono a crollare tutte le certezze e la progettualità questo ha anche un impatto non soltanto nel singolo paziente ma anche nella famiglia e quindi nella società e questo avviene in tutti i casi nella maggior parte dei casi allora noi lasciamo ai pazienti la scelta dopo la comunicazione della diagnosi di avvalersi del supporto psicologico quindi il paziente mi può giungere in osservazione subito dopo la comunicazione dopo un mese dopo un anno quindi si rispetta il tempo di reazione del paziente che è importantissimo che può essere anche lungo quindi quando poi c'è l'intervento che si basa sulla scelta volontaria non si costringe nessuno ad effettuare un intervento psicologico individuale si va a contenere attraverso un ascolto attivo un ascolto empatico e quindi a dare uno spazio un tempo a quelle che sono l'emozione cioè si accompagna si sostiene il paziente a verbalizzare le sue emozioni cioè a tirarle fuori a tirarle fuori ma a tirare fuori anche quelle che sono le sue risorse interne o ed esterne perché lui le possiede ma non con un ruolo passivo ma attivo perché non deve vivere la condizione di malattia in modo molto passivo perché lì subentra anche il sistema immunitario di come noi affrontiamo o reagiamo alla malattia ed è molto importante quindi che il paziente abbia un buon equilibrio emotivo una buona stabilità emotiva nell'affrontare le difficoltà quale può essere non solo la comunicazione della diagnosi o l'iter diagnostico o l'aderenza alla terapia o una possibile recidiva e questo tipo di attività terapeutica è fatta dallo psicologo e dal paziente cioè è solo di questi due elementi o ci può essere una terapia anche di gruppo? inizialmente l'intervento psicologico per i pazienti con sclerosi multipla era di tipo individuale però proprio nell'esperenziale con i pazienti mi sono resa conto che mancava qualcosa cioè potevo sostenerli potevo accompagnarli però sentivo che aveva bisogno di un confronto alla pari di confrontarsi con altri pazienti con la stessa patologia e da qui è nata l'idea insieme alla stretta collaborazione del dottor Leone e del neurologo delicticato che è appunto la dottoressa Crociani di formare il gruppo di muto aiuto che si chiama la Margherita e quindi che si fa in gruppo e poi da capire se in questo gruppo ci sono solo i pazienti oppure il gruppo è più ampio e ci sono anche i parenti dei pazienti allora il gruppo è nato a settembre 2017 quindi c'è quasi un anno insomma è giovanissimo è alle prime armi ma anche io sono alle prime armi nel gruppo quindi faccio solo il conduttore perché sono loro i protagonisti principali del gruppo e allora l'incontro è mensile è aperto tutti i pazienti ma anche i familiari infatti il prossimo incontro verranno i figli dei pazienti quindi anche per vedere come vivono loro la malattia e cosa sanno della malattia perché bisogna uscire dal risolamento dalla incomunicabilità da sfatare i pregiudizi perché di solito la sclerosi multipla da un punto di vista psicologico viene associata a sedia a rotelle cioè se uno lo stigma che ha della sociale è quello quindi si chiama margherita perché vedo i pazienti come la margherita cioè è composta da tanti petali la malattia è soltanto il singolo petolo della margherita anche se sfiorito provato dalla condizione proprio clinica non deve oscurare gli altri petali cioè la vita sociale la vita lavorativa la vita relazionale la vita di coppia e quant'altro quindi si va a curare ancora di più la parte sana e a contenere e a convivere meglio con la patologia e in questo senso una speranza in più come avete sentito ci può arrivare dal futuro dall'esito di queste ricerche di queste sperimentazioni che sono in corso e che speriamo possono dare i risultati che tutti auspichiamo grazie allora alla dottoressa Crociani e alla dottoressa Princi per averci aiutato a capire che cos'è e soprattutto come si cura la sclerosi multiva grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi grazie a tutti